Bambini, verranno tempi migliori, fate la nanna, bambini, e disegnate i colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura, chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura, chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore, e dovrai soffrire. E sarai costretto ad obbedire, chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire, chi comanda il mondo? Sotto questo cielo chi ci può sentire, e chi ha creato il mondo? Torre di Babele, torre di Babele, chi ha creato il mondo? Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti, economisti e pubblicisti, terroristi, padroni del mondo, peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi e ribististi, staccano visto. Illusionisti che ci hanno illuso, con le parole, libertà e democrazia, fino a portarci all'abbattia, creando nella massa una massa grassa, di armi, di divisione, di massa, media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale, ma siamo divisi, non singoli, torniamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno belli i migliori, fate la nanna, bambini, e disegnate colori, fate la nanna che la mamma ricullerà sui suoi seni, fate la nanna, bambini, volati dai cieli. Buongiorno un bambino di questi si svegnerà, e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in oltre l'amore, ti comanda il mondo, c'è una dittatura, c'è una dittatura, ti comanda il mondo, non puoi immaginare quanto fa paura. Buonasera a tutti, buonasera a tutti quanti, la prima domanda che ci facciamo è se c'è il segnale, se c'è il segnale, se stiamo in onda, perché noi non ci troviamo, quindi... Ci dai una conferma Giuseppe? Vedo una persona... Ci vedi? Ci vede? Sì, li vedo in costruzione. Infatti, va bene. Se ci vedete, dateci una risposta, e buonasera a tutti quanti, da me, Andrea e Claudio, e Giuseppe D'Aria, la regia, e vi lascio subito nelle mani, nelle notizie di Claudio, che... Sì, ma prima di tutto, visto che siamo un movimento a confessionale, in nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo, e anche per, insomma, ricordarci di Mario Di Nolfi... Ecco, Roberta Palmigiani in diretta ci saluta. Bene, grazie Roberta, condividi e metti un like al nostro video. Partiamo, prima di tutto, anche perché, detto fra noi, ho... Quindi Giuseppe ci metti i commenti sul... Sì, sì, grazie Giuseppe. Una relazione molto stretta fra quello che andremo a leggere con il Vangelo di oggi e le notizie che ci sono anche su Roma Capitale, e tutto il resto a seguire. Il Vangelo di oggi è il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei, c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso, e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse... Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose... Ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per ti più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costi si può attraversare fino a voi. E quegli replicò... Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose... Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. E lui... No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose... Se non ascoltano Mosè i profeti, neanche se uno risuscitasse dei morti, saranno persuati. Questa è la parola del Signore. Questa è una parola forte, credo, perché... È una parola molto forte. Oggi è difficile parlare dell'inferno. L'inferno molti teologi sedicenti cristiani cattolici affermano che c'è, ma è vuoto. Invece qui la parola è molto chiara, è molto netta. Quindi addirittura parla di una separazione tra lo spazio abitato dai giusti e quello di chi invece ha fatto una vita dissoluta, non curandosi del prossimo, in questo caso era Lazzaro. E qui ci agganciamo alla prima notizia che abbiamo su Roma, perché a Roma è, come dati riportati, una notizia proprio del 15, quindi recentissima. Questa è proprio una tipica notizia di cronaca della capitale. Di cronaca della capitale. Roma è a rischio povertà a 4 anziani, mi aggancio alla povertà, a rischio 4 anziani su 10 e vivono con meno di 11.000 euro. Questa notizia, al di là del fatto di essere una notizia locale per Roma, ma poi vedremo meglio che è una notizia che è vera anche a livello nazionale. Cioè quello che si è riscontrato è che circa il 22% della popolazione italiana ha più di 65 anni e vive di pensione. Di quel 25% appunto, un quarto orientativamente è a rischio povertà. Facciamo figli, come facciamo a mantenere questi 65 anni? E' a rischio povertà. Quello che si vedeva appunto, poveri o ultra 65 anni, perché poi si vedrà che gli over 65 che vivono con meno di 11.000 all'anno sono quasi 10.000 solamente su 42.000 residenti nel secondo municipio, 11.000 su 44.000 nel settimo, 20.000 su 70.000 addirittura in quello che riguarda San Giovanni, Cinecittà, eccetera. Quindi stiamo parlando di 20.000 su 70.000, stiamo parlando di più del quasi il 30%. E' una quantità non indifferente. Però quello che appunto si nota con più nettezza è che nelle zone periferiche della capitale, ovviamente, oltre a vivere il disagio delle ristrettezze economiche, perché molti appunto con gli 11.000 euro, considerando poi eventuali affitti o cose del genere, non riescono ad arrivare a fine mese, si aggiungono le carenze relative alla mancanza di servizi. Ovviamente tutte le zone che sono periferiche hanno meno centri anziani, hanno meno luoghi in cui le persone anziane possano in qualche modo ritrovarsi. E quindi di fatto che succede? Che il male peggiore per queste persone diventa la solitudine. Nel senso che molti, collegando il fatto di avere una difficoltà a livello proprio logistico, non ci sono appunto i posti, mettendoci anche un fatto di avere una difficoltà negli spostamenti, strade piene di buchi, marciapiedi dissestati, servizi pubblici, mezzi pubblici carenti, molte volte preferiscono rimanere chiusi in casa da soli piuttosto che uscire. Questo ovviamente è una cosa molto molto grave, ma quello che vi stavo dicendo prima è appunto che il dato Istat è che gli italiani sono più vecchi in calo e le culle sempre più vuote. Quindi torniamo al discorso che noi abbiamo sempre sostenuto, che tu dicevi prima, fate figli. L'analità è in calo costante e non si riesce materialmente a supportare la nazione in questo modo. È interessante quella notizia che avevi citato sul nostro gruppo di quell'imprenditore del Veneto. Infatti ci arriviamo anche a quello, nel senso che appunto quello che diceva, dicevamo, anziani soli, pochi soldi, opere dissestate, nel frattempo grandi incompiute, così titola un articolo del 12 marzo di Daniele Autieri, grandi incompiute, Roma brucia più di un miliardo di euro. Questo perché appunto ci sono tante opere nella nostra capitale. Nel nostro municipio in particolare. Nel nostro municipio anche, perché nel nostro municipio abbiamo le torri, l'acquio area dell'euro, però c'è caserme di Guia Guidoreni, così come le vele di Calatrava, la vecchia fiera di Roma, i mercati generali, la metro C. Tanto per dirne una, la terza linea metropolitana, per la quale sono già stati spesi 3 miliardi di euro, è praticamente adesso inutilizzabile, intanto che non si fa il completamento del tracciato, almeno fino a Colosseo. E siamo fermi, cioè è un'opera per la quale sono stati spesi 3 miliardi di euro, inutilizzata. Le vele di Calatrava, altre opere per cui erano stati spesi 200 milioni di euro, per terminarla ne servirebbero 426. Io guardo, scusate Giuseppe Faccini, io guardo Giuseppe, ma se guardo non leggo, quindi una delle due cose che posso fare. Tranquillo. Se ha sentato il regista, se l'è presa, è scappata, ce l'ha lasciato in baglia del suo telefono, è ritornato. Ne servirebbero per terminare le vele di Calatrava altri 426. C'era una soluzione, diciamo, che potevano essere le Olimpiadi di Roma, ma la sindaca Raggi ha deciso di mollarle. La regia di dice il sindaco. Scusate, il sindaco. Io purtroppo non ho i ritorni da nessuna parte, quindi mi sto un po' perdendo in questo senso. Giuseppe ci dà la conferma del segnale. Siamo in diretta. Sì, 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 siamo in diretta, come sempre, tranquilli. Quindi male. Allora, stavo dicendo, abbiamo abbandonato anche le vele di Calatrava, per cui pure quelle sono un'opera ferma così. Dall'altra parte, il nostro municipio, l'Acquario, nel quale, nel quartiere Euro, i privati nell'Acquario avevano speso già più di 80 milioni di euro. Ovviamente lì, pure lì, ci sono stati dei problemi, per cui anche quello si è fermato e servirebbe un intervento, anche in quel senso, perché possa ripartire e almeno portare a qualche cosa. Altra cosa molto triste è la vecchia fiera di Roma, per cui costa investimenti, ma non solo. Lì sono stati tagliati del 35% le cubature sul progetto della fiera che c'era, per cui, e questo ovviamente voluto dalla giunta pentastellata, per cui il valore di mercato di quella zona, che era di 120 milioni di euro, ovviamente si è ridotta a 80 milioni di euro. Stesso discorso vale per la riqualificazione dei mercati generali dell'Ostiense, dove dovrebbe sorgere la città di giovani. Qui l'indecisione sorana e il rimpallo 5 Stelle si gioca tra il municipio e il ottavo e il comune, ma il costo per un mancato via libra potrebbe attivare penali milionarie. A questo proposito ci agganciamo a una notizia dell'ultimo secondo, nel senso che all'ottavo municipio di Roma si è dimesso questa mattina il presidente Pace. Si è dimesso perché ha detto che era impossibile governare. Impossibile governare a causa dei dissidi interni. A testuali parole dice che era impossibile continuare in queste convenzioni, con una maggioranza che si comportava costantemente da opposizione, controllando e criticando ogni atto della giunta prima ancora che venisse prodotta, effettuando veri e propri blitz negli uffici amministrativi e producendo così un'indebita e inaccettabile ingerenza che ha provocato le reazioni dei dipendenti. Che ringrazio per l'impegno profuso in questi mesi e dei sindacati. Di fatto c'era questa rissa continua interna alla maggioranza dell'ottavo municipio. Precisiamolo, perché sennò poi rischiamo di fare un'informazione limitata. L'ottavo municipio di Roma è grande più o meno come Bologna, per cui quando parliamo di un municipio di Roma non parliamo di un quartiere, parliamo di una città. Di una città come tante altre ce ne sono e come tante altre andranno alle elezioni in questo anno, alle amministrative che ci saranno. Mi viene in mente Monza, per esempio, che andrà alle elezioni e che aveva candidato nel Movimento 5 Stelle. Il sindaco di Monza era una signora che si era candidata perché, pensate bene, aveva raggiunto l'inimmaginabile cifra di 20 preferenze sul web. Siccome aveva raggiunto 20 preferenze sul web, era stata candidata come sindaco di Monza. Ovviamente, ecco qui la notizia, la candidata sindaco Grillina si ritira, era stata scelta con soli 20 voti sul web. Attenzione, questo significa che ora il candidato per sindaco di Monza per i 5 Stelle sarà il secondo classificato con ben 17 voti. Ora, 17 voti, tu mi insegni da noi, manco l'amministratore del condominio fai perché quello è. Però questi sono i candidati che propongono. Io sono convinto, signori, sono convinto, ma al 100% che il popolo della famiglia riuscirà a fare molto meglio. Abbiamo avuto delle esperienze veramente fantastiche nell'amministrativa a Roma e nelle altre amministrative che si sono svolte in Italia. Abbiamo raggiunto dei risultati in alcuni municipi per cui avremmo veramente fatto il sindaco di Monza piuttosto che di altri cittadini italiani. Per cui quando parlo di un municipio come l'ottavo municipio di Roma in cui si è dimesso il presidente di municipio perché è impossibile governare, sto dicendo che si è dimesso il sindaco di Bologna perché con i 5 Stelle non può governare. Quindi figuratevi se riescono a governare una cosa più grande. Però questo era giusto un inciso, non era una notizia, non mi interessava neanche tanto, però mi è capitato e l'ho dato. Insomma, è importante, no? Sì, no, ma ci sono cose talmente quisquiglie queste, sono talmente cose più importanti che veramente dei 5 Stelle ci interessa pochino. Quindi quello che stavo dicendo, 80 milioni per l'acquario, tutti i soldi appunto che sono per ora stati spesi, bloccati senza nessun frutto. Quindi le partite cambiano, il risultato più o meno è sempre lo stesso e attualmente a Roma si ondeggia sempre fra il no e il sì e più o meno siamo in equilibrio. Sono riuscito a mettermi in connessione con l'Ivo. Siamo più o meno in equilibrio sul forze. Adesso ti condividi, così almeno ci vediamo. Però salutami se ti dico un condito. Ciao Andrea, dimmelo. Ciao Andrea. Abbiamo Andrea collegato con noi. Ciao Andrea. A proposito abbiamo Guido Peneselli, sono arrivato, ciao Anna Russo, Ciao Guido, Guido, attenzione perché... Anna Cavallo che abbiamo incontrato, se non sbaglio... Scusa, Guido era il nostro candidato presidente all'ottavo municipio. Guido, come ti ho detto, si è dimesso il presidente dell'ottavo municipio. Ha 20 giorni di tempo per ripensarci. Io sono abbastanza convinto che ce lo faranno ripensare perché sennò sarebbe veramente un grosso smacco di nuovo per il 5 Stelle. per cui ce lo faranno ripensare. Qualora non dovesse essere così, l'ottavo municipio verrebbe orientativamente commissariato, che significa che poi probabilmente si dovrebbe arrivare a delle nuove elezioni per l'ottavo municipio e non mi stupirei che le volessero fare in concomitanza con quelle del decimo. Ovviamente saremo in battaglia con te, Guido, inutile che te lo dico. Abbiamo appena inaugurato il circolo del Tommaso Moro, San Tommaso Moro di Roma Sud, ottavo, nono e decimo municipio. Martedì eravamo con Guido e appunto dicevamo che avremmo dovuto fare questa battaglia per le elezioni del decimo municipio. E allora mi sa che arriviamo. Mi sa che le facciamo pure per l'ottavo e non ci sono problemi. Tornando al discorso, appunto, ottavo municipio, presidente di missionario, eccetera, eccetera, ci sono altre rivelazioni, ovviamente, dichiarazioni di Bertini, che si è dimesso come assessore del comune di Roma per la storia dello stadio della Roma, più o meno. Ma lui dice ancora per la mia libertà ho pagato un prezzo inaudito e le città non si fanno con affari come quello dello stadio della Roma e neanche con i mercati generali dell'Ostiense. E appunto dicendo che lo stadio della Roma, così come i mercati generali dell'Ostiense, sono di fatto, a suo parere, una truffa. Però la cosa che dice in assoluto, dice sono d'accordo che la politica vada messa sul banco degli imputati, però resta l'assoluta mancanza di cultura peripolitica che ho trovato di fronte a me. Quindi diciamo che conferma i giudizi che ha dato per cui poi è stato in qualche modo estromesso dal municipio. Ci saluta Mauro Rotunno. Grande Mauro, abbiamo intravisto la tua trasmissione con la splendida Silvia. Bravo Mauro. L'unica cosa che ti devo dire non si sentiva un granché bene. Gli eravamo detto. Alzate la voce, fate voi. Mi sembra che stanno organizzando una super trasmissione. Comunque avete ricevuto 8700 visualizzazioni. Avete superato Mario. Non so se vi farà... Lascerà ancora andare in onda. Tornando al discorso che facevamo prima di anziani su Roma, ma anziani sul territorio nazionale, vi volevo dire una cosa che non riguarda strettamente la città di Roma ma che mi ha colpito molto perché è quello che è successo... È un tema a noi affine quindi hai fatto bene a prenderla questa cosa. È una cosa che assolutamente mi ha colpito per le dichiarazioni di un imprenditore di Vicenza che esattamente è Zanè il posto, il signor Roberto Brazzale, di 54 anni, tre figli, e che conduce la più antica azienda lattiero-casearia dell'Italia. Considerate che è in azione già dal 1784. Comunque per la sua azienda e per i suoi dipendenti, adesso la sua azienda conta attualmente 550 dipendenti, ha stabilito che per ogni... non per ogni donna, attenzione, per ogni famiglia che decidesse di procreare, cioè di mettere al mondo un figlio ma anche di adottarlo, comunque di avere figli, quindi incentiva la natalità, ha deciso di contribuire con una mensilità. Ha detto, mi rendo conto che è poco, mi rendo conto che non è molto, che non sarà certo quella... non sarà imprenditore e lodevole. Certo, non sarà certo quella la cosa che porterà i giovani, le giovani coppie ad avere figli, però quello che ci tiene lui a dire è che al di là del fatto di premiare chi in questo senso si impegna, addirittura a fronte di questo, tra virgolette, di questa regalia dei 1500 euro che lui darà a ogni donna, ogni uomo che decidesse di avere un figlio, ha detto la promessa che vuole che gli venga fatta dalle persone appunto che riceveranno questa regalia è che rimangano a lavorare nella sua azienda almeno per altri due anni. Quindi, al contrario di quando di solito quello che veniva detto, la donna incinta è penalizzata perché sul lavoro viene trattata in maniera peggiore degli uomini per cui magari si tenda a non assumere le donne o quanto altro. Questo signore non solo vuole che le sue lavoratrici facciano figli ma addirittura gli promette che il suo il lavoro gli verrà mantenuto comunque per altri due anni dopo e infatti dice che la sua segretaria è stata a casa con il figlio per ben tre anni perché appunto voleva che crescesse però ci sono delle frasi che ha detto che assolutamente vorrei leggere perché perché sono molto significative allora allora dice quando ero piccolo dice Brazzale in giro vedevo mamme e carrozzine oggi vedo solo badanti e sedie a rotelle per i giovani pensare ad un figlio è un problema enorme ma ancora non diamo un peso adeguato a quello che è una epocale tragedia collettiva cioè un imprenditore che dice una cosa del genere è lutevole non so come come dire non so come non si riesca a capire che questo è il vero problema non so come non si riesca a capire che nel nostro parlamento ancora si discutono di quisquiglie e pinzellacchere come diceva Dodo la vita in diretta con Mario Di Norfi ho visto quella e l'avversaria ma tant'è guardate qui continua allora tra il 2008 e il 2015 le nascite sono precipitate del 20% un quinto di bambini in meno questo ribadisco è un imprenditore a dirlo cioè non riesco proprio a allora una società così si estingue il ritardo nel nostro parlamento è uno scandalo è inaccettabile è l'assenza di un sostegno reale alla vita nell'azienda di Zanè il primo assegno è appena stato staccato la responsabile dell'analisi chimica è diventata mamma la scorsa settimana e la prossima la prossima settimana sarà l'economista che guida l'ufficio Costi ad andare in maternità e quindi a prendere anche l'assegno sembra un po' l'imprenditore Olivetti lui faceva un grande lavoro per i suoi dipendenti creava degli ambienti dove addirittura i figli potessero ma lui ecco quello che dice è imbarazzante quanto l'Italia in questo senso si è arretrata dice nella Repubblica cieca la madre può occuparsi di ogni figlio per tre anni la mia segretaria ne ha avuti due a breve distanza e è tornata in un fisico dopo sei anni tanto per essere chiari dice noi abbiamo cercato di aggiungere un passaggio che può apparire paradossale dire ai dipendenti che siamo contenti se credendo nel valore individuale e collettivo della vita concepiscono un bambino e stanno a casa per aiutarlo direttamente a crescere ma bene siamo di fronte a un benefattore però quello che dice il Mario che dice il popolo della famiglia è che è veramente un'idea tra l'altro bella questa del reddito di maternità legge solamente quest'altra fase leggela tu perché è l'altra cosa adesso i nostri figli in via di estinzione sono investiti dai fallimenti dei genitori sconvolti dall'arrivo dei migranti che ricordano i nonni veneti costretti a emigrare il punto così non è solo premiare il coraggio di chi dona al mondo un essere umano ma favorire chi si assume anche la responsabilità di plasmare un individuo di qualità riservandogli tutto il tempo necessario questo significa plasmare cioè ragazzi io quello ho detto chi c'è in Veneto andate andate ragazzi per questo condividete la puntata e dire beh qualcuno del popolo della famiglia a Veneto vada a incontrare questo imprenditore e dire queste frasi qua di una persona che oltre ad avere un cuore ha una testa grande perché qui lui parla di chi ha il coraggio di donare al mondo cioè come vedete è l'opposto di chi prende un figlio e se lo fa suo qui lui parla della logica del dono io prendo un figlio e lo dono al mondo e questa è la logica di dare la luce figli e persone non la logica che invece hanno le lobby omosessualiste lesbiche e quant'altro che prendono il figlio e lo fanno soggetto e non oggetto di un diritto perché loro hanno il diritto di avere un figlio hanno il diritto di avere un figlio loro hanno il diritto che parla di donare al mondo un bene che è il bene più prezioso che c'è noi italiani in particolare dobbiamo questo capirlo il bene di una nazione non sono le risorse ma sono le persone ecco perché siamo contro l'aborto ogni non nato è una risorsa che è venuta a mancare il paese e se pensiamo alla più grande donna di questo nostro paese che è Emma Bonino così è stata definita da qualche rappresentante della chiesa ci ricorda che le pensioni non saranno pagate lega questa sventura al fatto della mancanza o alla chiusura o alla messa in atto di muri che non aumentano la immigrazione nel nostro paese invece di fare questo discorso cara Emma Bonino diamo l'opportunità alle donne come diceva Marlene Olfi nella trasmissione della vita in diretta di scegliere non stiamo imponendo il reddito di maternità noi stiamo dando con l'idea del reddito di maternità la possibilità di scegliere alle donne perché il 68 il riscatto questo supposto riscatto che avrebbero conquistato le donne è una panzanata perché le donne sono comunque diverse dagli uomini hanno altre esigenze e un vero riscatto della donna è nel rispetto delle sue esigenze quindi quella di essere se vuole una lavoratrice se vuole un'impenditrice se vuole un'impiegata ma anche essere mamma ecco il senso del popolo della famiglia e noi nel nostro programma diciamo così elettorale lo abbiamo questo al primo posto questo punto lo vediamo e lo viviamo come un'emergenza nazionale nazionale quando diciamo che il popolo della famiglia è per la famiglia non diciamo nemmeno tradizionale non diciamo naturale è quella della costituzione è quella dell'articolo 29 punto e basta perché nella costituzione il popolo della famiglia è quello che difende la costituzione quando diciamo la famiglia è quella contenuta nell'articolo 29 della costituzione punto e basta quindi difendere la famiglia significa dire alla società oh svegliati datti una mossa bisogna rimboccarsi le maniche e fare figli fare figli ma mettere le famiglie in condizioni di farli no a parole non a chiacchiere scusa se prego no 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 tanto sei intervenuto appunto su quello che dicevo la cosa bellissima per me la responsabilità che si assuma la responsabilità di plasmare un individuo di qualità riservandogli tutto il tempo necessario perché poi alla fine vedete come qualsiasi genitore di buonsenso sa che riuscire a crescere il figlio e crescerlo bene significa viverci con il figlio non fare il figlio lasciarlo con la babysitter all'asilo nido certo esatto non creare l'opportunità per fare un figlio e poi lo figlio lo dai alla babysitter crescerlo crescerlo significa starci insieme e forse anche in qualsiasi genitore ma sai quello che mi colpisce che in quella in quella trasmissione la giornalista credo che sia la giornalista adesso non mi ricordo il nome aveva il coraggio di dire no non è un'idea che condivido perché voleva rendere lei diceva questo discorso che assurdo diceva l'uomo perché non ci sta l'uomo a casa ma per carità io adesso non discuto voglio dire se la donna lo gradisce non è che l'uomo no no lo faccio io cioè abbiamo dei ruoli diversi io non ho scusate ma io il seno non ce l'ho per adattare un bambino quindi scusate ma che male c'è vabbè ho capito ma io il seno non ce l'ho quindi ci sarà un senso del rispetto delle differenze tanto tanto che si parla che noi non vogliamo uniformarci noi vogliamo amiamo le differenze e vogliamo sottolinearle il punto è che una l'iniziativa diciamo l'iniziativa molto valida appunto che proponeva Mario che era quella del reddito di maternità era un'iniziativa che è vera concreta reale perché è fattibile perché gli studi li abbiamo fatti che se ne possa pensare abbiamo usato come diceva Amato le proiezioni da qui a 2018 per cui come sono stati fatti i conti per la reversibilità la famosa e discussa versione di reversibilità a persone di cui non avrebbero diritto che sono coloro che si uniscono civilmente perché l'istituto della della reversibilità era nato quando erano gli anni prima della guerra quando appunto gli uomini rischiavano di non tornare più e quindi le donne che avevano reso un servizio alla patria al nostro paese che era il figlio che sono i figli avevano giustamente diritto di questa forma di stipendio se no come sarebbe andato avanti ecco dare questo diritto a chi non lo ha è una perdita di denaro economico pubblico che invece la proiezione famato dice lo possiamo creare per fare il reddito di maternità il reddito di maternità era quello che poi era stato proposto dalla vita indiretta se non sbaglio da Mario quando diceva ogni donna che liberamente sceglie di accudire il proprio figlio ha diritto perché lavora due volte non lavora cinque volte quindi ha diritto ad essere retribuita tanto quanto se andasse a lavorare come impiegata da qualsiasi altra parte allora lasciamo veramente le donne ma io dico anche gli uomini ben venga anche se nell'idea che aveva Mario ed era corretta ed è corretta è perché qualsiasi figlio da piccolo quando ha da uno a tre anni vedete questo imprenditore che la sua segretaria con due figli ha lasciato a casa per sei anni il bambino che ha tre anni che ha due anni sì potrà stare bene con il papà ma quello che vuole quando sta male cerca sempre la mamma non c'è il pezzo e chiunque padre queste cose le sa ma certo comunque salutiamo allora anzitutto Roberta Plomigiani ci dice che i bambini sono un dono di Dio e non un diritto civile mi piace questa frase perché la faccio mia ma ricordate che adesso ti parlerò che una frase del genere di questi tempi sei a rischio di omofobia e te lo spiego io dopo perché ho una rubrica che parlerò dell'omofobia però la condivido pienamente e la sottoscritta Maria Verita Botti sta guardando il video Emanuele Bruni sta guardando il video Carmela Putolo ci saluta ciao Carmelo Francesca Centofanti ciao sta guardando il video Claudio Parisini sta guardando il video ce l'ho fatta ce l'ho fatta Anna Russo Anna Russo l'abbiamo Elena Di Pietro vai vai Giuseppe tu leggi intervieni e di perché questa è bella Irene Stagliano mi date l'indirizzo che mando il curriculum brava guarda tanto se anche a mia moglie c'è avuta una brillante idea te la mandi a tua moglie così te la devi dare non è carino quello che dice facciamo avere una dipendenza della ditta qui a Roma Vincenzo Cruciani ciao allora di fatto questa questa è una notizia appunto molto importante non riguardava Roma ma ci tenevo a darla perché secondo me è una cosa molto molto importante una cosa che riguarda non solo Roma ci salutano buona diretta e Maro Rodurno ci dice che ha risolto i problemi di connessione per la prossima puntata dimmi bene dicevo un'altra cosa che invece è uscita fuori dal comune di Fondi che riguarda tantissimo Roma infatti è uscita subito è una decisione del del di un giudice di pace per cui si sosterà gratis sulle strisce blu è una notizia non è vera è falso però la faccenda è che la legge di stabilità prevedeva che i parcheggi a pagamento dovessero dal 2017 appunto essere muniti del lettore di tessere Bancomat perché appunto la teoria è che non è dobbiamo sempre guardare te stai andandovi un'altra volta perché appunto dicono che non non sempre una persona può avere degli speech a disposizione e quindi così come in tutti gli esercizi commerciali più o meno è possibile pagare col Bancomat doveva essere possibile allo stesso modo quindi un giudice che c'ha la testa allora questo qui è stabilito dalla legge di stabilità che è stata varata recentemente e un giudice a fondi appunto ha decretato che un signore al quale era stata combinata la multa perché non aveva pagato il parchimetro nelle strisce blu si è appellato appunto dicendo che il suddetto parchimetro non era munito del lettore Bancomat e quindi gli è stata tolta la multa e come sappiamo purtroppo per tante cose sentenza fa giurisprudenza come sappiamo per tante cose adesso Ari ci dici meglio esatto sì perché siamo proprio agli sgoccio siccome tutti i tutti i parchimetri di Roma non sono provvisti di lettore Bancomat in teoria possiamo in teoria possiamo tutti non pagare non pagare io rubo spazio a Claudio e di nuovo siamo tutti non ce la faccio a non farvelo rivedere siamo tutti ad inolfi perché la situazione non mi piace per niente quello che ho sentito e che avete sentito tutti voi militanti del popolo della famiglia le offese che sono arrivate mi permetto di dire una cosa a titolo personale anche se sono militante della famiglia però dovete sapere che in questo movimento non siamo nessuno di noi una marionetta ci possiamo tutti prendere le nostre responsabilità e questo è un grande dono che ci ha dato Mario Di Nolfi per cui io sarei dell'idea di per quello che è successo contro Mario Di Nolfi e contro un intero popolo presente al Family Day ai due Family Day per cui come sapete alla trasmissione dei iene J-AX e FedEx si sono permessi di fare un brutto gesto insultando più di un milione di persone perché se noi contiamo quelle presenti in quel momento nei due Family Day più quelle che non sono potute venire sono andate a San Giovanni da tutta Italia sono andate al Circo Massimo da tutta Italia pagandosi il biglietto famiglie intere ho visto al Circo Massimo che io sono potuto andare soltanto al Circo Massimo gente che portava la sede a rotella perché si sono portati pure il familiare con disabilità ecco offendere queste persone io mi prendo la mia responsabilità non ci sto J-AX e FedEx devono essere denunciati per diffamazione devono essere denunciati per oltraggio perché non è una questione di perdono evangelico io li perdono ma è un aiuto che io do a loro perché se iniziamo a offendere le persone in questo modo non c'è più libertà di pensiero di contro scusa Andrea pensa all'intervento che ha fatto Mario oggi a Radio Cusano non so se l'hai sentito se noi adesso facessimo quel gesto spettacolare esatto questo gesto spettacolare io vi faccio due domande ma sale a Letizito Letizito avesse avuto il coraggio di dire che il terremoto era avvenuto non perché era cascato Maria di Nofi ma forse cascato Platinette avrebbe avuto questo coraggio a dirlo oggi lo sapete che nessuno ha il coraggio di dire una cosa contro una persona che si definisce con un orientamento sessuale diverso da quello etero se un'altra cosa che vi voglio dire ma se Mario o se qualcuno di noi avesse usato fare quel gesto non lo voglio fare a Lussuria pensate che fosse finita così quindi il giorno dopo allora ma sarebbe stato giusto se fosse stato offeso Lussuria che Lussuria avesse fatto una bella querela questo strumento è uno strumento sano per inibire questi atteggiamenti che ledono la libertà di pensiero e ricordatevi tutta la Shoah tutto l'attacco che è stato fatto agli ebrei è iniziato con questi modi è iniziato attraverso il ridere il prendere in giro la parolaccia fino a che siamo arrivati al genocidio e siamo in quei termini allora io non so se c'ho tempo non c'ho la voce però volevo parlarvi di questa notizia della sentenza del tribunale di Roma per le due mamme che convivevano già da quattro anni io un pochettino provo a leggerla perché quello che colpisce in queste notizie sui giornali non è tanto la notizia il contenuto ma le emozioni che vogliono trasmettere a me delle emozioni non mi interessa perché se le emozioni generano leggi che creano un costume che fa male perché le unioni civili creano un costume che fa male perché aprono all'adozione dice no no non vi preoccupate votateci cattolici che siete in Parlamento che avete fatto passare la legge sulle unioni civili vi rendete conto che dicevate no non passerà mai non passerà mai la step child adoption è passata e passa con le sentenze sentenze assurde sentenze che fanno leggi contro la legge e qui mi sembra che anche Mauro Rotunno ci ha fatto una cosa la leggo? che dopo la leggo la leggo adesso perché volevo leggere quell'altra prima però me la sono scordata però ci deve dire Giuseppe se ci abbiamo qualche minuto in più per farvi capire che cos'è l'omofobia perché quando la appunto prima la nostra amica ci dice che i figli sono doni di Dio non sono diritti civili tu sei omofoba secondo la legge che potrebbe uscire perché sta a bagnomaria noi ci stiamo preoccupando noi in questo stemma ci abbiamo no gender ma noi dovremmo mettere no scalfarotto no legge sull'omofobia perché è una legge tremenda è una legge liberticida e noi se siamo scesi in campo non è soltanto per questo perché questa è una cosa gravissima è la prima volta in Italia pensate che in altri paesi come in Inghilterra in Francia già ci sono queste leggi dove c'è un reato di opinioni per cui vi dico soltanto questo e cerco di essere breve salutiamo Paola Procaccini Carmela Cutolo Anna Cavallo Sara Deodati e Angela Ciconte che ci stanno guardando ciao a tutti quanti grazie della vostra vicinanza del vostro supporto ma vi rendete conto cosa hanno detto ad Adinolfi un sito classico sito di filo gay e filo lesbiche che dicono che stanno chiedendo vorrebbero intentare una causa per togliere la figlia di Adinolfi perché i contenuti dei suoi pensieri sono fuori dal mondo ma ci rendiamo conto ma se permettete io nella legalità a queste persone le voglio attaccare per le offese che regano allora quello non è un reato di opinione stanno cercando in tutti i modi di creare una corrente di pensieri stanno creando e noi ci dobbiamo svegliare per questo condividete per questo e chiunque di noi sia simpatizzante vi prego scendete in piazza una piazza soltanto ve lo dico soltanto e domani alle ore 12 nei pressi di San Camillo si lotta per il rispetto della legge anche la stessa legge 194 che prevede all'articolo 9 la possibilità dell'obiezione di coscienza primetici si lotta contro questo bando che discrimina e quindi va contro l'articolo della Costituzione che discrimina appunto chi è contro l'aborto e chi è no insomma ci sono anche motivi religiosi Sara ci ricorda il forum sociale che si terrà il 24 come primo appuntamento però ricordiamo anche il 22 alla parrocchia che c'è ad Ostia se poi magari Sara può metterci i riferimenti il 16 pure dice Sara mi sembra sbagliato il 16 oggi il 22 c'è no no c'è ragione il 22 c'è Mario ad Ostia in una parrocchia insieme ad un parroco quindi vale la pena tutti specialmente quelli del decimo municipio che avranno la possibilità di partecipare vi leggo un attimo la poesia la parrocchia San Nicola di Bari parrocchia San Nicola di Bari brava Sara che ce l'ha ricordato e alle ore 18 mi pare Sara ore 19 grazie Sara via che spettacolo via sempre via Giancarlo Passeroni via Giancarlo Passeroni ore 19 San Nicola di Bari è il 22 22 ok allora entra la corte me coglioni c'è un nuovo legislatore ce la tocca vostro onore lui se bea desta mansione ce pia gusto e dà lezione senza pace lui decide alla lobby esorite da sentenza tutto casato ma non guarda sia reato e così è qua vallata quella norma derivata dalla legge sull'unione anni scosta nei cavilloni ma non s'era detto niente adozioni giurin giuretto dimme mo catto deviato noi l'avevamo avvertito ogni volta che la finestra s'apre entra di tutto puro le capre mo ci sarà secondo atto co bio testamento presto fatto pori i ragazzini defraudati de uno dei genitori privati da sentenza senza amore che gli darà solo dolore bella quando dice catto deviati bellissima bravo Mauro allora vi voglio dire soltanto brevemente se ci riesco che cos'è la legge scalfarotto ci ha dato tempo ci ha dato il nostro autore regista Giuseppe D'Aria ospite che siamo a casa se non ci caccia via praticamente questo disegno di legge scalfarotto è stato concepito pensando che nel nostro paese ci sia una emergenza nazionale che è appunto l'emergenza omofobia allora la domanda è questa ma c'è l'emergenza omofobia? allora che cosa dobbiamo fare per rispondere a questa domanda ci rifacciamo al nostro conduttore che è Maria Di Nolfi che ci dice una cosa certa date i numeri cioè non date i numeri che siete usciti fuori di testa cercate di dare conferma di quello che dire con i numeri e allora praticamente quali sono i numeri? i numeri sono degli studi condotti veri non quelli fatti dalle dalle arci lesbiche e dagli arcichele perché attualmente la psicologia studi psicologici e ci quant'altro vengono fatti affidati dalle arcichele e alle arci lesbiche ditemi se questa è poi scienza corretta invece qui ci abbiamo un organismo che è un istituto demoscopico uno dei più accreditati dell'America degli Stati Uniti che si chiama il Pure Research Center che ha fatto uno studio che io già vi ho citato qualche tempo fa nella trasmissione qualche trasmissione fa che si intitola The Global Divide on Homosexuality che cosa ha fatto? ha cercato di capire in tutti i paesi del mondo quindi un grande studio uno studio importante qual è l'atteggiamento della popolazione nei confronti dell'homosessualità e apri di cielo si può dire apri di cielo è successo che l'Italia visto che si parla di emergenza omofobia in Italia in Italia è nei top 10 dei 10 paesi più gay friendly cioè dei 10 paesi al mondo che non hanno alcuna osterità che la popolazione non percepisce alcuna osterità nei confronti degli omosessuali questa è la prima notizia ma non è finita qua perché è uscito un altro studio in questo caso italiano di un anche questo istituto demoscopico che ha voluto un'altra cosa che è emersa da quello studio precedente degli Stati Uniti è che il 74% della popolazione non ha problemi con l'omosessualità quindi quale cultura dell'omofobia volete fare uscire fuori che sono tutti temi al di fuori della realtà è veramente pura demagogia allora il 70% della popolazione italiana non ha problemi con l'omosessualità significa che noi siamo un gradino sotto la civilissima Inghilterra è un gradino sotto la lecissima Francia ma un gradino cioè un appunto percentuale ripeto siamo nella top 10 dei 10 paesi più gay friendly al mondo l'altro studio dell'istituto demoscopico SGV italiano ha redatto un report una sorta di fotografia della situazione sociale italiana che l'ha intitolato Scenari in una Italia che cambia ebbene ha cercato di costruire delle categorie di persone di soggetti che possono essere ritenuti ostili per gli italiani e che cosa è uscito fuori? Sono uscite fuori 15 categorie in queste 15 categorie che dagli italiani vengono lette come ostile ci sono queste ordini di grandezza l'Europa per alcuni viene vista come ostile il fisco gli immigrati la criminalità ma non esiste tra queste 15 nessuna categoria che è riferibile agli omosessuali secondo studio anzi no vi dico una cosa simpatica c'è un rimasuglio di qualcuno che ce l'ha con i meridionali quindi non con non con gli omosessuali o con le lesbi o con i transessuali non ce l'ha nessuno state tranquilli nessuno vi maltratta siete ben accetti vi vogliamo bene vi amiamo vi rispettiamo vi chiediamo soltanto una cosa rispettate anche noi grazie ora c'è un altro dato interessante e questo riguarda il nostro caro studio dell'istat del 2012 che è stato presentato alla camera perché voi sapete che questa discussione di DL viene presentata alla commissione giustizia al senato e praticamente in quell'ambito è stata presentata questo studio dell'istat è vero che risale al 2012 ma è quello che ci abbiamo in mano attualmente che sostiene che più del 60% è a favore che due uomini o due donne convivano insieme un 40% dice l'istat sarebbe favorevole al matrimonio omosessuale mi dite dov'è l'omofobia? io voglio sapere questi sono dati questi sono dati come quella volta che tu hai letto i dati rispetto al femminicidio e mettevi in evidenza che l'Italia era uno degli ultimi posti rispetto a paesi dove gli studi di genere sono questi i dati che noi vogliamo portare io vado un pochettino avanti perché è interessante è una sbobbinatura di un incontro che ha fatto Amato quindi ve lo ripropongo perché è sempre molto interessante salutiamo scusa Cecilia Maria Biancarelli anche lei dice siamo tutti a Dinolfi Mauro Rotunno ci dice oh va aspetto lunedì alle ore 19 c'è un post per te Mauro si intasa a Facebook qua tu non sai che pubblico che c'hai poi sentite questo sentite questo questo è interessantissimo perché a che cosa ci serve Lunar e vi dico una cosa ricordatevi Lunar non si può abolire perché Lunar nasce su volontà dell'Europa ecco perché io dico a Claudio Claudio io voglio un'Italia sovrana io voglio un'Italia sovrana non che col meccanismo dell'Europa mi si impongono certe cose Lunar è una realtà voluta dall'Europa la cosa buffa è che noi ci siamo autolimitati rendendo l'ufficio nazionale antidiscriminazione razziale anche qualcosa che si occupasse della discriminazione sugli omosessuali voluta dal ministro dal capo del gabinetto Monti all'epoca e dal ministro del lavoro La Fornero purtroppo ci siamo autolesionati bene che cosa ha fatto Lunar cosa ha detto Lunar secondo Lunar non esiste nemmeno un caso di discriminazione per il momento sessuale sul lavoro pubblico o privato mi dite dov'è l'omofobia se non esiste nemmeno un caso di discriminazione in base alla sessualità in base all'ordine sessuale Irene Stagliano vorrebbe che gli ricordassi l'appuntamento di domani perché ci sarà il marito di fronte se non erro l'appuntamento è all'incrocio fra Viera e Mazzini ce l'abbiamo su Whatsapp io ce l'ho sì esatto comunque a mezzogiorno a mezzogiorno all'incrocio di Viera Mazzini con il San Camillo credo a mezzogiorno Giannicolense Viera Mazzini a mezzogiorno esatto insomma da quello che si sta emergendo da questi dati è che il problema omofobia il problema di discriminazioni non esiste vado avanti e quindi praticamente faceva notare Amato che una legge che è questa purtroppo nefasta legge scalfarotto la legge sull'omofobia è una legge inutile le leggi vanno create perché le leggi limitano comunque la libertà se non è necessario farle non vanno fatte allora se non c'è il problema dell'emergenza nazionale omofobia perché si fa la legge scalfarotto io ne parlo queste cose perché ho una tremenda paura che se uscirà noi tutti qua Giuseppe Daria la regia Claudio Paresina Andrea Rosa andiamo in galera e se sapete cosa ci becchiamo ci becchiamo un anno e sei mesi perché siamo comunque omofobi e l'omofobia non si sa esattamente che cos'è perché nessun giudice l'ha definita e perché loro non la definiscono e dice Amato che l'omofobia in questi termini ricorda la famosa legge in Russia che ti il reato di attività anti-sovietica che dopo 30 anni dal crollo del muro di Berlino ancora la giurisprudenza non è riuscita a capire che cos'è il reato di attività anti-sovietica così è la legge sull'omofobia lo sapete chi giudicherà il fatto che un atto sia omofobo o meno chi lo subisce quindi sulla percezione di chi subisce l'atto presunto omofobo oppure lo deciderà il giudice ma questa è uno psicoreato questa è una lesione della libertà questa è una legge liberticida allora sappiate che la cosa è interessantissima che la legge per tutelare le eventuali omofobie eccetera anti-omofobie non viene creata ad hoc nuova con una norma precisa ma viene presa la reale legge Mancino su che cosa riguardava quella legge riguarda contro l'antisemitismo contro l'antirazzismo ma vi rendete conto cioè questo significa che tu paragoni la categoria delle persone con orientamento sessuale diverso agli ebrei o a che ne so alle persone di colore di altre razze e penia su queste derive questa è una cosa è una deriva come dice Claudio giurisprudenziale grave che non deve avvenire nel nostro paese per questo ripeto attenzione perché l'altra deriva che sta andando piano piano è quella sulla stepchild adoption perché quello lì era uno stralcio è stato stralciato dalle unioni civili e adesso è stata ripresentata esattamente il 29 dunque allora il 29 marzo 2016 il decreto legge 23.01 che prevede le norme per l'adozione coparentale è una parificazione piena delle unioni civili tra persone e lo stesso successo le coppie unite in matrimonio in punto di adozione coparentale e riprende testualmente quanto già previsto dall'articolo 5 del disegno di legge 2081 che era prima firma della senatrice Cirinna quindi quello che è stato stralciato da quella legge è stato riproposto pari pari di fatto e sta cercando di avere un suo diciamo una sua valenza giuridica il punto è che quella è una cosa quando diceva Mario che è un febbraio di fuoco che siamo in guerra c'è quella c'è la legge sul biotestamento adesso che è andata in discussione alla camera il 13 ma questa sull'omofobia è la peggiore di tutti perché tu non puoi scendere in piazza e dire io sono contro cioè io non è che sono contro gli omosessuali io sono per gli omosessuali io amo gli omosessuali come amo qualunque persona ma si diceva il giornalista ecco perché dico alla nostra amica quando tu dici i figli sono doni di Dio non sono diritti civili dobbiamo stare attenti se escono queste leggi perché la legge Scalfarotto va contro i fondamentali articoli della Costituzione che sono il 19 e il 21 che riguardano la libertà di opinione e il rispetto della religione nel senso se la mia religione nel Catechismo della Chiesa Cattolica mi dice che gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati non lo potrò più dire e questo va contro la Costituzione se io dico sono a favore degli omosessuali ma non sono non acconsento alla loro unione civile perché si apre al matrimonio e all'adozione non lo potrò dire posso andare in galera ricordiamoci che gente come noi come Giuseppe come Claudio come me come Adinolfi Adinolfi prima di tutti noi che siamo associati e che abbiamo atteggiamenti di questo tipo omofobi andiamo incontro a quattro anni di reclusione e uno come Adinolfi che è il presidente per dirvi va incontro a sei anni cioè non sono queste sono gravi limitazioni alla libertà di espressione per questo ritorno e concludo quando un J-AX e un FedEx mi insultano ci insultano io non è che mi offendo ma io come cittadino ho il diritto ho il dovere di reagire affinché non si arrivi a questi momenti e se io ti denuncio caro J-AX e FedEx ti impedirò dopo di farmi del male o di farci del male perché stanno uscendo delle storie incredibili offese enormi a Mario Adinolfi oltretutto già bannato ma ci rendiamo conto ma queste sono cose gravi al di là dei contenuti di quello che diciamo ma ci permettete di esprimerci o no allora questa veramente è una dittatura purtroppo è così purtroppo è così è stato detto Luciana Frangioni dice che schifo di governo è questo ed è proprio per questo che noi siamo in campo chiara cara Luciana per cercare di ma voi lo sapete che il è concludo il giornalista ateo laico liberista che si chiama Piero Stellini credo del giornalo del Corriere quando ha scritto ma perché un omosessuale se picchiato deve essere tutelato giuridicamente più di me che sono con un orientamento sessuale diverso da lui perché ma picchiare una persona è reato chiunque sia quella persona lui per avere detto queste cose è stato invitato a licenziarsi a uscire dal giornale ecco che cos'è l'omofobia quindi al di là al di là di quello che noi crediamo è una cosa veramente razzista al contrario ormai si sta scatenando la fobia nei confronti di chi la pensa diversamente dalle lobby LGBT cioè esprimere un pensiero contrario a questo punto chiediamoci chi è l'omofobo no io penso questo caro Giuseppe che oggi le vittime sedicenti vittime sono diventando naziste ecco adesso mi banneranno pure a me perché ho usato questo termine di fatto quello che volevo dire tornando però alla trasmissione della scorsa settimana in cui ci riagganciavamo a quella a quel silenzio forte da parte della chiesa che denunciava Mario appunto quello che stavo dicendo che si è discusso alla camera questa settimana il 13 la legge sul biotestamento camera tristemente vuota come ci dicevano perché c'erano appena 20 deputati a vedere questa questa discussione ma d'altra parte era lunedì e lunedì la camera non si lavora e c'era Mauro che ci diceva bello questo posto dove si lavora solamente fino al venerdì mezza giornata perché poi si va via e lunedì si arriva tardi quindi poca gente in Parlamento ma la cosa che ha fatto a me ovviamente sempre a me ha fatto piuttosto mi ha fatto sussultare diciamo dal messaggero aula vuota vescovi vescovi perché poi si danno come diceva Nanni Moretti le parole sono importanti le parole pesano io su un giornale quando scrivo vescovi tra virgolette dispiaciuti ma i deputati lunedì è normale allora in vescovi dispiaciuti sa significare che la chiesa in qualche modo fosse ossia d'accordo a questa legge sul biotestamento di fatto però ovviamente qui c'era il nuncio Galantino però Galantino qui ha detto una cosa allo stesso modo pesante secondo me perché ha detto su un argomento così delicato che interessa così tante persone sul quale ci sono così tante attese dispiace aver visto che purtroppo nell'aula della camera c'erano così poche persone ma ma si può dire? no io non si può dire io direi meditiamo un po' di più le parole sono importanti e cerchiamo di dare peso alle parole e soprattutto ecco le fake news i vescovi non sono Galantino Monsignor Galantino lui e uno potevano scrivere Monsignor Galantino e non penso che si sia espresso a nome della CEI anche se sia il segretario generale si è espresso a nome suo così come qui Andrea si esprime a nome suo cercando di fare suoi i pensieri del popolo della famiglia e così come faccio io ma poi alla fine ognuno risponde di quello che dice in prima persona sono io che rispondo di quello che dico sono io che andrò in galera come omofobo piuttosto che Andrea piuttosto che Giuseppe qui dice Elena Di Pietro ritornando al discorso che facevo prima eterofobia e cristianofobia esattamente questo cioè l'omofobia ci sta aprendo gli occhi che esiste cicciofobia esatto perché poi su Mario si può dire di tutto a lui sul fatto che lui è una persona un pochettino voluminosa come direbbe Gandinolfi e poi la famosa tolleranza di queste persone è questa insomma e infatti Sara Deodati ci dice ciccionofobia cicciofobia allora concluderei se siete d'accordo con l'ultima sì perché Giuseppe ci ha fatto così che non so esattamente che cosa vuol dire l'ultima che riguardava appunto le offese di questi due cantanti i rapper aspetta l'ultima su Roma veloce veloce poi Campidoglio sondaggio catastrofe il 40% dei grillini non voterebbe più Raggi si è dimezzato l'elettorale raggi poi andiamo bravo lanci le notizie pure così bravo i rapper la Iena due rapper e una Iena ma che belli usano il dito come cortelli questa è la loro coraggiosa azione mannacce una parte di un'azione poi le scimmiette ammaestrate della lobby lobotomizzate saudaci e scartri nel loro atto ma col cervello che è coatto ma una volta che c'hanno il cuore di dibattere con chi pensano rivale ma una volta che c'hanno coraggio di rispondere senza fare oltraggio erdito medio me fa un baffo pagate tazzo alla lobby ma che buffo triste la vita da gli uomini che fate tristi voi e le vostre sparate ma chi di offesa ferisce nel redere non potrà crescere perché tutto passa tutto scure di loro non resterà neanche l'odore bravo grazie Mauro e con questo vi salutiamo vi auguriamo un'altra grazie Giuseppe scusa se ci siamo dilungati scusatevi tutti fermo fermo Giuseppe ciao tutti di notte eccolo qua ciao Mario ciao Mario ciao a tutti grazie alla prossima ciao a tutti